Ciao a tutti! Finalmente sta per iniziare un nuovo video, ma io sono un deficiente e mi sono accorto solo ora di avere ancora sul pigiama. C'è freddo così però. Ok, perfetto, così va molto meglio. Ora può davvero iniziare questo video. Quest'oggi ho deciso che vi parlerò di alcune particolari situazioni che, se siete degli studenti o lo siete stati in passato, sicuramente le avrete vissute in prima persona. Mettetevi comodo. È altamente probabile che vi immedesimerete in tutto questo e con una faccia smarrita pronuncerete Oh cazzo, ma è vero! Buona visione! Oh, arriva la prof, arriva la prof! Oh cazzo! Scherzavo! Ma vaffanculo! Tra quanto suona... Manca pochissimo. Davvero? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì E non si può imbrogliare Secondo me è la D Perché suona bene D, burro E altre suonano male Ma va a cagare Chiedo l'aiuto a casa Ciao mamma sono io Sai dirmi di che cosa hai fatto lo yogurt Come di che cosa hai fatto lo yogurt Potevi studiare Gentilissima mamma Mi fermo a 70.000 Cavolo domani c'è il compito di matematica Sì ma tanto io domani non vengo a scuola Spero che tu stia scherzando Quel bastardo è rimasto veramente a casa Io sono qui che faccio il compito Ciao come stai? No non dovevi farlo La mia fiducia è stata tradita Oggi dichiaro ufficialmente conclusa la nostra amicizia Ragazzi volevo comunicarvi Che domani la prof di storia Sarà assente Faccio tavolo raga Faccio tavolo Megliacchèo Stavolta è vero Dimmi che stai scherzando No Per favore dimmelo No Un vero studente Quando deve buttare via una cartaccia Non si limita a fare questo No è troppo semplice Ti senti un perdente se fai così Un vero studente Fa questo Scommetto che anche il bidello della tua scuola È venuto a lamentarsi per aver trovato un pezzo di carta per terra E tu avrai pensato Minchia ma è il tuo lavoro Scommetto che anche tu Per giustificare un brutto voto a tua mamma le hai detto È andato male a tutta la classe Scommetto che anche tu Quando mancavano solamente dieci minuti alla fine della lezione E il professore ha deciso di iniziare ad interrogare Per far trascorrere il tempo Hai cominciato a porre delle domande assurde del tipo Ma prof Quanto è lungo il collo di Maurizio Costanzo È più verde l'erba o più veloce il treno Quando lei ha iniziato i pokemon Ha scelto Charmander, Squirtle o Bulbasaur Scommetto che anche tu Quando la prof ti ha sgamato con i cellulari Per giustificarti hai detto Stavo solo guardando l'ora Nonostante tutto questo Tra i banchi di scuola Si creano le più grandi amicizie Nascono i primi veri amori Si impara a rialzarsi dalle delusioni Ma soprattutto Si impara a prendersi le proprie responsabilità Se anche a te è successa almeno una di queste cose Clicca il pollice in su che si trova qui sotto E mi raccomando Iscriviti al mio canale E naturalmente Aspetta il mio prossimo video Caro professore Guadagni 1300 euro al mese Fai lezione solo al mattino Hai un giorno libero E fai tre mesi di ferie Ti lamenti pure Ma vaffanculo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti